Benvenuti a Campiglia Marittima, il cuore pulsante della costa degli Etruschi, dove storia e bellezza si fondono in un'esperienza senza tempo. Il cuore pulsante della costa degli Etruschi, il cuore pulsante della costa degli Etruschi, il cuore pulsante della costa degli Etruschi, Campiglia Marittima è molto più di un semplice borgo, è un tesoro storico e culturale, che attende solo di essere esplorato e scoperto.